Hai mai sognato di rifare un esame scolastico? È uno dei sogni più frequenti. Non vi sentite ancora pronti ad affrontare qualcosa che sta avvenendo nella vostra vita. Sognare un esame è la causa di sentimenti di angoscia e preoccupazione. Legati ad un evento molto importante che dobbiamo affrontare. È legato anche alla paura di essere sotto giudizio quotidianamente. E questo conduce alla stessa ansia che si prova ad essere sotto esame. Simboleggia un periodo in cui siete sotto pressione. Pieno di prove da affrontare e ostacoli da superare. Non vi sentite all'altezza e questo porta stress e preoccupazione. Legato senza dubbio al fatto di sentirsi costantemente messi in discussione. Principalmente questo sogno si può dividere in due. Sognare un esame di maturità o un esame di università. Sognare un esame di maturità. State per sostenere una prova. Un test o un colloquio di lavoro che vi riempie di ansia. Questo genera in voi una sensazione di paura di non riuscire a superarlo. Simile a quella che si prova durante un esame di maturità. Sognare un esame universitario. Questo sogno non è legato ad un evento specifico e potremmo interpretarlo diversamente. Non vi sentite all'altezza di quello che state facendo. E questo genera in voi una profonda agitazione. Non vi sentite realizzati e questa immagine potrebbe simboleggiare l'idea di rimanere sempre indietro. Rimanere sempre fermi ad un punto. Altre immagini possono essere. Sognare un'interrogazione. Siete persone molto esigenti che cercano costantemente di mettersi alla prova. Volete dimostrare di essere sempre all'altezza della situazione a tutte le persone che vi sono vicine. Sognare un esame già superato. Questo è un sogno che si fa spesso nei momenti di stress. Un sogno di questo tipo permette di scaricare la tensione. E di trovare consolazione nel fatto che in passato si sono già superate delle prove particolarmente difficili. Ci si sente motivati e spronati a dare il meglio di sé. Grazie a tutti.